e ora vi presento la nostra mascotte ufficiale del festival la pompa aggrappandoci alla nostra tradizione locale che cosa è venuto fuori? beh, come il contadino cura la propria vigna con il verde rame noi curiamo i nostri metallari con il verde alcol la sua genesi questa volta è stata molto travagliata bisogna dire che abbiamo sbagliato le dosi clamorosamente appena tirata fuori l'abbiamo fatta assaggiare la bestia l'ha sputata allora abbiamo chiamato altri amici che stavano arrivando e gli abbiamo fatto portare un'ulteriore dose di gin con la correzione perché nella pompa c'era questa volta gin lemon ha sorpreso e praticamente la pompa è terminata prima dell'ultima febbra 5 litri non ne potete più fare a meno grazie per se Grazie.